La nostra è una coalizione progressista che annovera oltre a forze politiche nazionali, simboli forze politiche nazionali consolidati, come il Partito Democratico e il Movimento 5 Stelle, anche delle formazioni civiche che sono espressioni di diverse sensibilità. Quindi è una coalizione allargata che contempla oltre alle forze politiche anche altre realtà e serve proprio a dare la sensazione, il nostro identikit è quello di essere una coalizione ampia a forze tra azione progressista che si ispira quindi ai valori del cambiamento, del rinnovamento dell'area progressista. La sanità è un argomento che sta a cuore a tutti i cittadini, sul quale la politica deve svolgere fino in fondo il proprio ruolo. Sulmona ha un presidio ospedaliero che è una realtà, un presidio strutturalmente all'avanguardia, però ha necessità che venga dotato di risorse umane e strumentali necessarie per poter compiere il suo proprio ruolo. La cultura sulmona è stata sempre, soprattutto negli anni passati, negli anni trascorsi, un punto di riferimento a livello regionale per le attività culturali e il turismo è una chiave di lettura. Silone dice, è una chiave di sviluppo, Silone dice nell'avventura di un povero cristiano che tra queste montagne c'è una tradizione antica, più antica della stessa venuta di Cristo, che è l'ospitalità. Ecco, noi dobbiamo puntare su questa ricettività, potenziare la ricettività per consentire che Sulmona possa intercettare sempre maggiori flussi turistici, perché in alcuni periodi dell'anno ci sono sicuramente delle presenze significative, però dobbiamo fare in modo che il turismo si espanda, che coinvolga altri attori, in modo tale da essere una risorsa maggiormente utilizzata.